Eccoci qua in questo nuovo video di Fall Guys che sta piacendo a tutti, davvero a tutti quanti, a tutti quanti, praticamente stanno diventando strani quelli a cui non piace, praticamente, allora si salta, oh che bello, allora io direi di saltare direttamente, no, Dunis, eh, per favore, non si salta così, però avete visto che bella skin che ho, ho tipo la skin da cactus, secondo me è molto carina Oh, ve lo volevo dire, vi piace o no? Scrivetemi nei commenti se vi piace la mia skin da cactus oppure no, mannaggia Gian Giuberto, è questo Gian Giuberto schifoso, allora svegliati però, apriti grazie, apriti sesamo, molto bene, allora dobbiamo qualificarci se no mi arrabbio come al solito, mi arrabbio, mi arrabbio, mi arrabbio, mi arrabbio, non è che devo prendere tutte le palle in pieno, vabbè che però, cioè nel senso no, ho capito, eh, su, allora porca misera, eh, dobbiamo, dobbiamo stare attenti perché, no, 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 per favore, Non mi dire che si stanno qualificando tutti, però ce la facciamo, mi sa, ce la facciamo perché siamo troppo bravi e io ci ho giocato altre volte anche con dei miei amici, ma questo gioco è molto bello Sì, però, sì, ok, round over, perfetto, adesso passiamo al prossimo, no, non me ne frega, non me ne puoi fregar di meno E comunque, sono un po' strano, dunisiani lo so, lo so, me ne rendo conto, però, vabbè, ok, questo come vedete è il salto ad ostacoli, qualcosa che non riusciremo mai, infatti saremo squalificati in 3,4 secondi Adesso, adesso vedrete, ma poi, che cos'è questo accento da, tipo, milanese? Vabbè, comunque, davvero, non so, dunisiani, se, eccoci, vabbè, a parte che ci stanno arando, praticamente, mannaggia loro Porca mi, dai, dai, io ve l'ho detto, io questa, questa cosa non la so fare, ma allora, questa cosa mi sta facendo molto innervosire perché, porca miseria, ma non è possibile Allora, svegliati, tu stupida lattina, inutile di, di, di niente, probabilmente una lattina di, di schifo, eh, di schifo totale Non, non farmi arrabbiare perché poi dopo finisce, ma porca miseria, eh, vi spostate creature immonde? Oh, ma guardate, oi, madonna mia, santa, mh, santa paspizzola, eh, salta, ti prego, salta, grazie, grazie, grazie Oh, per la gioia di, per la gioia di, boh, non so, ditemi la gioia di qualcuno, mannaggia Non, non, eh, la gioia di, eh, stritta la pizza, è il mio amico, il mio amico che mi picchia No, 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 se cado però sono, scusa, 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 ho fatto cadere uno Upsi, non volevo, scusa, scusami tanto Allora, però qua, eh, si devono fare questi giri qua così, tutti, tutti avete capito, no, tutti quanti così Però stiamo attenti perché sennò poi dopo, oh, mio Dio, se ce la facciamo piango Piango come una scrofa in vereconda, piango come una scrofa in vereconda, piango come una scrofa in vereconda, sì, sì Allora, vai, 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 stiamo attenti perché qua, porca, porca miseria, lo sapevo io Allora, dobbiamo stare attenti come ho già detto perché poi dopo qua, eh, finiamo per morire male Vai, oh, grazie, grazie È la prima volta che ce l'ho fatta, Duniziani, Duniziani No, allora, non potete capire la mia felicitudine Cioè, voi non potete capire Questa è la prima volta che io riesco a completare questo percorso maledetto È un percorso maledetto, io ve l'ho sempre detto E tutti sono stati squalificati, giusto? Ok, sono rimasti 11 qualificati, quindi moriremo in 3 secondi Molto bene Perfetto Vabbè, ehm, adesso passiamo al prossimo, alla prossima modalità che probabilmente moriremo Allora, questo è il, tutto il gioco con il pattern, no? Cioè, nel senso, tutto, tutto il percorso da seguire Probabilmente non mi starete vedendo perché io sono una persona molto simpatica E faccio andare gli altri avanti perché, eh, ovviamente non è che vado a morire io Ah, eccoci qua, eccoci qua Eh, mannaggia a te, a tua sorella No, scherzo, nel caso avessi una sorella scherzavo Però allora, stiamo attenti perché Madonna, sti qua Svegliatevi se non vi ammazzo No, 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 eh, niente Niente Ci abbiamo provato, ma nada Vabbè, è stato bello, eh Adesso passiamo al prossimo round Un'altra volta, cioè Scusate, ma sembra la copia dello scorso Dai, perché continuano a venirmi sempre gli stessi percorsi, mannaggia Perché adesso dobbiamo navigare Fra gli ostacoli, mannari, che ci butteranno giù Però sono sempre gli stessi gli ostacoli Sono sempre gli stessi Io che, caspita, vi faccio vedere La copia, diciamo, della scorsa Dello scorso Vabbè, avete capito, no? Dello scorso round E mi si è buggato pure il cursore, no? Mamma mia, che simpatia Questo Fall Guys Porca miseria Se osate buttarmi giù Ah Non mi arrabbi affatto C'era una persona molto Allora, se mi sentite in questo modo È perché io sono talmente tanto arrabbiato Che non potete avere idea Perché Mannaggia loro Mannaggia, mannaggia Mi Si era messo davanti Comunque, vabbè, mi sono qualificato Lasciamo perdere Adesso passiamo Alla prossima mappa Ok, ovviamente Di nuovo naviga fra gli ostacoli Però Scusate, ok No, non ho scherzato Stavo per dire Magari è una nuova mappa No, scherzo Cioè, non è una nuova mappa Perché Questa qua l'avevo già fatto altre 20 volte Adesso verranno spazzate via Le persone che Non sanno giocare Perché adesso Madonna, veramente Antipatia Saltami via Non so, è una nuova cosa Che ho inventato io Perché porca miseria Ok, sono bravissimo Come avete potuto benissimo notare Voi duniziani Perché Allora Questo cactus Porca miseria Cactus Non farmi arrabbiare Ma porca miseria Bravo Bravo Sono bravissimo Porca miseria Nessuno mi fermerà adesso Perché sono talmente tanto bravo E pro Che Nessuno potrà fermarmi Però adesso Cerchiamo di concentrarci Soprattutto sul parlare Perché su questo gioco È talmente tanto difficile parlare Che Parlare e giocare insieme Che se non sei esperto No in materia Diventa molto complicato Nel senso Se non sei esperto Se non sei uno youtuber Che fa video da 30 anni Brutto schifoso Madonna Non ho detto niente Non ho ancora detto niente Allora Ho detto solo brutto schifoso E madonna Non è una cosa brutta Giusto? Giusto? Non è una cosa brutta No E salta Bravissimo Siamo bravissimi tutti quanti Bravi duniziani Tutti insieme Uhu Madonna Io li amm... Io li ammazzo No 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 Però adesso ce la facciamo Ce la... Adesso ce la facciamo A porca Ma poi se io par... Spero di ricordarmi Di mutare sta roba Spero tanto di Ricordarmi Allora La cosa che mi dà fastidio È il fatto Che se io salto Perché mi deve cadere giù? Perché mi deve cadere giù Questo schifoso Personaggio di... Di... Di nulla Perché mi... Allora Perché mi deve... Ok ci siamo Allora qua dobbiamo di nuovo Navigare fra gli ostacoli Perché quando mai Però... Ok questa persona Proprio scema Proprio idiota Perché cadi? Sei peggio di me Quando corro Perché devi cadere Mannaggia a te Madonna Non farmi dire Non farmi dire E comunque Non pensate male Perché io non... Non bestimio mai Cioè ovviamente Non bestimiate nemmeno voi Perché non si fa... Però in queste situazioni Diciamo che Delle parole brutte Ti vengono eh Però... Però ovviamente Qua su youtube Siccome non si possono dire E... Vabbè Non le dico no? Ovviamente Non ditele nemmeno voi Perché... Lo so che vengono a volte Ma vabbè Ok allora In questo... In questo coso Dobbiamo prendere Le uova E portarle Dalla nostra parte Noi siamo Il team arancione O giallo Non so Perché i nostri personaggi Sono tipo arancioni Però porca miseria vai E prendi sta roba Prendi Prendi immediatamente Prendi immediatamente Ok perfetto Bravo 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 Ok allora Dobbiamo portarli tutti qua Ovviamente voi lo saprete già Perché siete molto bravi Perché probabilmente Avrete visto altri 3000 video Di altri youtuber Molto simpatici e bravi Però oh Ce l'ho fatta Ho preso un altro coso Allora Ovviamente Io devo essere nella squadra Dove praticamente Nessuno sta prendendo Un cappero di nulla E sta laggando tutto Perfetto Madonna Poi Madonna sta roba Cristina d'Avena Madonna Santissima Guarda Allora Mi sto nervosando Ma non importa Adesso andiamo nel team rossi E prendiamogli le robe Allora prima di tutto Spostati immediatamente Brutto schifoso Perché se non ti sposti da qua Ti ammazzo io Ok bene Perfetto Ok Allora grazie mille Adesso ho preso un uovo E me lo sto portando Direttamente là Perfetto Siamo abbastanza in vantaggio A quanto vedo Allora Che caspita Stanno arrivando tutti Ma tutti da noi Scusate Ma cioè è possibile Cioè tutti da noi Letteralmente No ma sono stupido Cioè io penso di essere stato proprio stupido Sapete perché Sapete Cioè io questa cosa mi vergogno Anche di farla vedere su youtube Ho portato l'uovo Nel team giallo Cioè vi rendete conto Di cosa vuol dire Cioè vi rendete conto Della rinco Vabbè Adesso lo portiamo però Nel posto Poi parlavo della mia squadra Vabbè Lo portiamo nel posto desiderato Siamo a nuove uova Perfetto Se solo gli altri se ne andassero E ci lasciassero almeno Le nostre nuove uova Anche perché Allora andiamo a prenderlo dai Dai blu Perché i blu sono quelli che ne hanno di più E poi così almeno prendo Ma porca miseria Dai Spostatevi Perfetto Ho preso un uovo Adesso me ne vado da qua Tranquillo tranquillo Allora Ti sposti tu Ma scusa ma ce la fai Ma ti sposti Ma ti sposti Ehi No 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 Allora io mi sto innervosendo Anche perché poi probabilmente Mi sto rendendo conto Che forse non sto parlando abbastanza Quindi adesso devo parlare Di più mannaggia a me Allora parla Dunis Parla Parla come una strofa Ma posso uscire da questo posto Posso uscire Posso Dai mi fate uscire A parte che sta finendo il tempo E abbiamo perso ovviamente Vabbè basta Io sono stufo di giocare Basta Per questo video può essere tutto Sono arrabbiato Ed indignato Perché non è possibile Continuiamo a perdere Ma prima o poi vedrete Che riuscirò a prendere Anche io quella Corona Se siete arrivati fino a questo punto Dal video Scrivete Mina Mina nei commenti Mina la mina della matita O della penna Anche se probabilmente Questa non è una mina Ma vabbè Ci vediamo al prossimo video Dunisiani Dori